Va bene adesso mi devo collegare con il mio inviato a chilometro zero perché è proprio qua vicino a me Giuseppe Scoditti, Giuseppe a te la linea Ciao Stefano, grazie, grazie Allora io sono molto felice perché oggi abbiamo qui con noi un ospite che ha sempre tenuto molto alla sua privacy, non si è mai voluto esporre ma ha scelto Barstella per parlare finalmente di sé Cugino Hit Cugino Hit Buonasera Buonasera, buonasera Posso chiamarla Cugino? No Nessun problema E questa è la sua prima intervista Sì Come mai hai aspettato così tanto tempo per parlare? Ho sempre preferito separare la mia vita pubblica da quella privata Ma è giusto che io ora parli anche per il rispetto che ho nei confronti del mio pubblico Un pubblico numerosissimo Perché io, io non sono solo il Cugino di Zio Fester Io sono una persona, sono una persona normale Eh, insomma E questo mi sembra molto evidente Se sono stato lontano dalle scene per molti anni e per via di una vicenda molto grave che riguarda mia madre La mia società immobiliare e il Tribunale di Reggio Calabria Certo Perché io, Cugino Hit, per il rispetto che ho nei confronti delle persone che mi seguono Ho il dovere di dare loro una spiegazione onesta e completa di quello che è accaduto Perché anche lei percepisce che c'è questa attenzione nei suoi confronti Certo Che le persone a casa, se non sanno i traumi della vita sua, poi la sera non riescono a prendere sonno Sì Non pensa invece che l'unica cosa che davvero interessa a tutti noi è cosa c'è lì sotto? Eh? Cosa? Cosa c'è lì sotto? Sotto cosa? Sotto questo ciuffettino Cosa c'è sotto questo ciuffettino? Lo fa capendo Il nasino, anche il nasino Non capisco Eh no, 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 caro mio Lei è venuto qui e adesso ci fa vedere cosa c'è sotto questa parrucca Prendetelo No Prendetelo No Non ce ne frega niente della sua vita privata Noi vogliamo sapere cosa c'è sotto questo cacchio di ciuffo Forza Ma lei è un finanziere Sì Ma perché non l'ha detto prima? Mi vergognavo E vabbè che c'è di male pensavo peggio Dal vostro Giuseppe è tutto e anche dal brigadiere Hit A voi la linea